Ciao a tutti ragazzi, sono Diego, oggi andremo a vedere la posizione degli NPC, ovvero dei personaggi in Fortnite che vi vendono degli oggetti, delle cose, cure, armi, del capitolo 3, stagione 3. Vediamo le posizioni in mappa! Eccoci qua col primo che è Cornetto, siamo a Crocevia Conici dove c'è la gelateria, quindi entriamo, è aperto, Cornetto ci dà dei pesci scudi e dei funghi succosi oppure il travestimento ci trasforma in qualche oggetto. Ciao Cornetto! Secondo posto c'è Ladrona, una delle skin più belle di Fortnite storicamente, vero Doggo? Ladrona si trova su questo sentiero a condotti confusi, quindi a est qua di condotti confusi, vedete? Sul sentierino, la trovate qua che cammina. Ah, carne, pannocchie e una fiocina. Ciao Ladrona, ci vediamo prossimamente. Ed ecco Paradigma che si trova qua all'avamposto dei sette, quindi qua, guardate, lato nord della mappa, qua. Vediamo Paradigma che cosa ci darà. Il cecchino, la torcia per riparazioni e delle granate. Ok, ciao Paradigma, alla prossima! Invece qua, a stazione Sinapsi, vedete il grande deposito, officina qua degli autobus, qua troviamo lo scienziato, vediamo cosa ci dà. Dei cocchi, un rift, una fenditura e le previsioni della tempesta. Grande scienziato, grazie per l'aiuto e adesso ti saluto. Ed ecco Origine che si trova qua appena nord-est degli Bugle, qua c'è un altro avamposto dei sette. Lo trovate qua, vedete, vicino al furgone dell'RS. Vediamo un po' Origine che cosa ci offre. Una fiocina, una mitraglietta, adesso mi è capitata viola, e dei kit, dei miei di kit. Ciao Origine, ci vediamo prossimamente. Ed ecco anche il visitatore, lui si trova qua, su questa isoletta, vicino alla statua. Qua c'è un altro avamposto molto grande, dei sette. Ed eccolo qua, ciao visitatore. Vediamo cosa ci dà, oh, qua c'è il buncecchino, una fenditura e una previsione della tempesta. Bene, 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 qua lui sulla sua isoletta, questi bunker non si sono mai aperti. Eravamo curiosissimi l'altra volta, io e Giuggi. Ma niente. Va bene, anche qua. Vedo che ti hanno griffato anche te con le bombolette spray, i tetti delle case. Vabbè, guarda la statua. Proseguiamo. Poi abbiamo Falco Solare, che si trova qua, nella zona dei tempi, che sembrano tempi Maya, qua appena a nord-est del Daily Bugle. Infatti è una skin proprio a tema di questo luogo. Guardate, vediamo un po' Falco Solare cos'hai. Un cile, un ranger epico, sto in giro, il segugio d'ombra e delle granate d'urto. Va bene, Falco. Eh, sì, sì, sono magnifiche le stelle. Poi abbiamo Guaco. Guaco si trova a Boschetto Bisunto, nel suo ristorante messicano, che con la crescita dei funghi è stato un po' griffato, metà è andato su quel fungo gigante. Però lui è sempre qua, che cerca di vendere. Guaco, scusati, spacco un attimo una finestra, tanto il ristorante è tutto rotto. Vediamo, Guaco, che cos'hai te. Tacos tornerà, devo solo perfezionare la ricetta della salsa e sistemare un po' il locale. Abbiamo un buon bolone scudo, detto anche lo spruzzone. Fucile pesante a due colpi e della carne. Ok, Guaco, ciao. Ci vediamo, eh. Prepara da mangiare che arrivo con i miei amici. Il signor fratelli Baozzi si trova qua, Canyon Condominiale. In questa piazzetta c'è il ristorante cinese. Entriamoci, ed eccolo qua, con la sua testa di rapa. Vediamo che cosa ci vende. Dei cavoli, un vasetto di lucciola, lucciole e dei pesci scudo. Ciao, tizio. Cosa c'è di buono qua? Ah, le bibite. Delle bibite, delle caramelle, non so cosa, e delle munizioni. Wow. Ciao, ciao. Poi abbiamo immagine. Immagine si trova qua. C'è un altro avamposto dei sette. Vedete? E qua abbiamo lei. Vediamo cosa ci dà. Un buon bolone scudo, detto anche spruzzone. Spruzzone e il fucile assalto martello. E possiamo dare una mancia all'autista dell'autobus. Eccola qua, immagine. Grazie mille. Vediamo se c'è anche di rift. Sì. E poi abbiamo anche di rift per svolazzarcene via in tranquillità. Poi abbiamo leader squadra coccole. Si trova qua. Sopra appena, sopra nord. Di Tana Strana. E su questa piattaformina. Vediamo che cos'hai leader squadra coccole. Hai un vasetto di lucide. Ah, anche la se colpi da tiratore scelto. E travestimento oggetto. Va bene. Non accetto reclami. Cos'è che dice? Sulla sicurezza delle montagne russe in questo momento. Non fidiamoci troppo. Qua abbiamo nascosto. Che tizio? Tutto camuffo. Comunque lui si trova. Circuito Chunkers. Qua nel garage. Vedete? Ed eccolo qua. Infatti questo è il suo garage di riparazione auto. Vediamo nascosto che cos'ha. Modifica veicolo. Le gomme per il veicolo. E lo possiamo assoldare. Siamo nel deserto. Fa caldo e questo c'ha il volto tutto coperto. È un po' un tizio strano. Ma... Qua abbiamo Iven. O Even. Si trova? Qua al centro mappa circa. All'Hoot Lake. In questo punto. Insomma. Dove c'è il furgone del Res. Quindi ci sarete venuti qualche volta. Vediamo. Lei cosa ci propone. Delle clombacche. Una fenditurina. Una fenditurina. E la possiamo anche assoldare. Poi abbiamo Ludwig. Si trova... Può trovare il St. Qua quindi. Nell'edificio. Questo qua rosso. Come vedete. Vediamo Ludwig. Cosa ci propone. Il gab esotico. La doppietta. La carne. E lo possiamo anche assoldare. Guardate come allegro lui vestito così. Ludwig. Ciao. Poi abbiamo Leader Squadra Metallo. Eccolo qua. L'orsetto metallico. Si trova all'orsetta. A ovest. Vedete. Cascata della realtà. Ancora più ovest. Qua c'è proprio la casetta. Ok. Ed eccola qua. Come era già ci possiamo trovare molte volte anche altri NPC. Vediamo che cosa ha il fucile a pompa. Percussione. Leggendario. Delle granate d'onde d'urto. E la possiamo anche assoldare. Proseguiamo. Poi abbiamo Criptico. Criptico si trova a Tana Strana. Però dentro nella caverna. Circa nella posizione dove c'è il bunker. Che c'è ancora. Però non è bello come prima. Vabbè. Quindi dentro nella caverna. Guardate qua il cerchio di fuoco. Ciao Criptico. Vediamo cos'è da vendermi. Da vendere. Barrett. Una torcia di riparazioni. Del Medinebbia. Bene Criptico. Ti ringrazio. Ci vediamo al prossimo giro. Ok. Ed ecco fondazione. Vediamo cosa c'è da vendere. Un vampa. Modifica la chiappa muc. e le gomme. Lui si trova qua. Questa parte dove c'era la statua. Dove c'è l'avamposto. Su questa isoletta. Lo trovate proprio qua in mezzo che cammina. Ciao fondazione. Grazie di tutto. Come al solito. Ed ecco Coccolpool. Lo troviamo sempre qua. Nella casetta dove possiamo trovare anche leader squadra metallo. Coccolpool a granata d'onde d'urto. Pistola secondaria blu e possiamo anche assoldarlo. Ciao Coccolpool. Però in pratica come skin. Qui a stretto sonno lento al ristorante di pesce. E la posizione di pesce secco. Adesso a me non è spawnato. Ci ho provato 20 volte. E non lo becco mai. Comunque qua dentro trovate pesce secco. In caso dobbiate parlarci. Infatti come vedete. È il suo ristorante. Poi abbiamo Ciuffo Pedrone. Pedrone. E di nebbia il dub. Lo possiamo assoldare. Lui così stile anni 80. E qua ai Jones. Guardate in questa costruzione. Ciao Ciuffo. Lui ce li ha i capelli. Sempre qua ai Jones. Adesso vabbè a me mi è spawnato Ciuffo. Potrete trovare Jonesy il primo. E se non sbaglio anche sì. Anche qua in giro. Jonesy Bunker. Quindi qua ai Jones possono spawnare 4 NPC diversi. Ecco poi abbiamo qua da qualche parte invece non ce l'abbiamo. Kyle il boscaiolo. Di solito è qua al deposito di Cionandia. Poi c'è Mankake che mi ha fatto arrabbiare. Mankake. Lo trovate a bobine brulle. Qua. Vi faccio vedere ma io c'ho il nervoso perché non l'ho mai trovato. E qua. Qua. A bobine brulle in questo palazzo. In questo. Volevo registrare il video e non l'ho trovato. Ciao ragazzi. Per questo video è tutto ragazzi. Iscrivetevi al canale. E buon divertimento. Iscrivetevi al canale.